E diciamo intera la verità, quel telegramma di Mussolini al prefetto di Torino del primo giugno 24 è il testo ideale dell'intolleranza italiana al livello sia del conscio che dell'inconcio. Mi si riferisce, telegrafava Mussolini, che noto Gombetti sia stato recentemente Parigi e che oggi sia Sicilia, stop. Usava lo stop, non ho ancora l'altro. Prego informarmi e vigilare per rendere nuovamente difficile vita questo insulso oppositore, governo e fascismo. Gli oppositori sono sempre insulsi e se si permette loro di vivere bisogna la vita a rendergliela difficile. E in definitiva il fascismo non è stata l'esplosione improvvisa di una epidemia, ma la forma che l'endemica intolleranza ad un certo momento ha assunto.